Cari amici, oggi è una giornata di luce molto importante. È il sostizio d'estate, un momento in cui la luce della giornata raggiunge il suo massimo potere mentre le tenebre della notte raggiungono il loro minimo. Questo evento rappresenta il trionfo della luce sulle tenebre e molti lo celebrano come un momento di rinascita e di rinnovamento. In molte culture antiche il sostizio d'estate era considerato un momento sacro in cui Dio raggiungeva la sua piena maturità e potenza. Questo simboleggiava anche la rinascita della natura e la sua capacità di creare nuova vita. Nella spiritualità moderna il sostizio d'estate può essere visto come un momento per riflettere sulle nostre vite e sulle sfide che abbiamo affrontato durante l'anno. Può essere un momento buono per lasciare andare vecchie abitudini, vecchi schemi di pensiero per abbracciare nuove opportunità e fare nuove esperienze. Ma oltre a questo il sostizio d'estate rappresenta la vittoria della luce sulla negatività e sulla paura. Ci ricorda che la luce interiore può illuminare anche le situazioni più difficili e che possiamo superare le tenebre della vita con la nostra forza interiore. Oggi celebriamo quindi la luce, la vita e la rinascita. Buon sostizio d'estate a tutti!